A te la parola Maurizio, ci aggiorniamo alla fine. Innanzitutto grazie di avermi invitato e di avermi dato questa opportunità. Il seminario effettivamente verte su una tematica apparentemente distante, però vedremo che in realtà rientra sempre nei cosiddetti rischi, in questo caso prevalentemente antropico, ma comunque ad ogni modo sarà anche l'occasione di curiosare attorno. Il tema è osservare al meglio l'inquinamento di hidrocarbura a mare. L'idea di fondo ci interessa, o meglio è rilevante, è un tema rilevante, le trasparenze sono in inglese, ma ovviamente vado in italiano come vi ho detto. Possiamo contribuire per mitigarlo? Quanto è difficile? Noi qui vediamo per esempio una piattaforma di estrazione petrolica, non è la più antica, ma tra le più antiche del 1955 nel Golfo del Messico, quindi a dire che è storia antica, non antichissima. Come sapete agli albori il petrolio veniva considerato un possibile medicinale, quindi è ovvio che il tempo è passato. Adesso qua non entro in tutti i dettagli, però noi sappiamo che da un barile ci sono una raffinazione che si chiama raffinazione, che sostanzialmente ci dà diversi prodotti. I prodotti più poveri, fatemmo dire così, cioè quelli non raffinati, si parla di crude oil in inglese, ovviamente viceversa sono quelli raffinati, sono dei valori, quindi a valle della raffinazione, ovviamente il valore di questi prodotti da un punto di vista economico è più alto e quindi in qualche maniera in termini banali costano di più. Giusto per dire che il crude oil, per varie ragioni che adesso andrò a affrontare, lo possiamo ritrovare a mare. Di solito i petroli leggeri, fatemi dire, quelli raffinati, ovviamente tendenzialmente non è che si buttano a mare, tranne che per casi incredibili. La produzione nel mondo, adesso questo non è un dato aggiornatissimo, perché tra l'altro sono dati complicati da avere, ma giusto per capire se è un tema che riguarda noi, tutti quanti, come è evidente, questi sono dati abbastanza aggiornati, anche se appunto non aggiornatissimi, ma sono difficili da avere sempre, perché sono anche temi diciamo in qualche maniera sensibili. Ecco, mettiamoli in questi termini, queste informazioni sono di natura para classificato, non voglio dire tecnicamente non sono classificati, ma sono così riservate che ovviamente nessuna nazione vuole veramente dichiararle in maniera esplicita. E notiamo che gli Stati Uniti sono il primo produttore al mondo e subito dopo ci sta, parlo del petrolio, quindi non sto parlando del gas, che è un altro tema che riguarderebbe un'altra cosa, dell'Arabia Saudita, la Russia e il Canada, ma come dire, i primi tre sono nettamente per distacco i più importanti, naturalmente ci sono delle nazioni che sarebbero potenzialmente dei grandi produttori, non lo sono per una serie di ragioni, soprattutto legate a condizioni di guerra. Che fine fa questo petrolio una volta che viene raffinato naturalmente? La gran parte va nel campo del trasporto, dove evidentemente avere un'energia relativamente a basso costo e che può essere trasportata con sicurezza, nel senso che ovviamente il serbatoio è sicuro e fondamentale, questo lo devo dire perché adesso si parla di tanto, ma insomma come dire, ha delle caratteristiche intrinseche naturalmente importanti. e la cosa incredibile è che se uno va a vedere c'è una parte industriale, una parte non pari a zero, anche di uso per generatori elettrici, queste sono statistiche mondiali che in qualche maniera, come dire, queste sono negli Stati Uniti per la vita, però significa che in qualche maniera se ne potrebbe fare a meno facilmente. In questo quadro l'estrazione può avvenire, ovviamente avviene, e questo è un discorso mondiale, sia ovviamente con pozzi petroliferi su terra, ma anche, come si dice, quindi sarebbe onshore, ma avviene anche offshore. Devo dire che questa stima dell'estrazione del petrolio a mare è circa del 30% e in realtà però sta crescendo, sta crescendo, sta crescendo per fare ragioni, perché ci sono noti delle aree a disponibilità di estrattiva di petrolio estremamente importanti, spesso sono una famosa, perché per essere chiara credo di aver messo una mappa adesso non mi ricordo, ma comunque sicuramente una è il Golfo del Messico, però questo è ampiamente sfruttato, però ci sono delle aree che ancora non sono pienamente sfruttate, questo per esempio riguarda il Brasile, che ha iniziato una politica estrattiva molto importante, a largo, fatemelo dire, di Santa Caterina, San Paolo del Brasile, ci sono altre nazioni che in qualche maniera, magari con meno tecnologie, non hanno iniziato un'attività, ma sono sicuri di avere delle cose, e poi ci sono degli scenari, lo dico uno nel Mediterraneo orientale, non so chi segue questi aspetti, che è una cosa che si innesta anche sulle vicende, purtroppo, della guerra israelo-palestinesi, che sono dei pozzi petroliferi che stanno iniziando a essere, come dire, impiantati, esplorati e roba varia, tra Cipro, Turchia, Israele e così via, e in realtà qualcuno anche a largo dell'Egitto. Oltre questo, lo dico, c'è l'Antartico, l'Artico è considerato la zona con le riserve di petroli più importanti, ma con delle sfide, diciamo, tecnologiche non marginali. Se quindi, come dire, ci concentriamo, in particolare alla produzione offshore, che ripeto, è al 30% stimata globalmente, e che però è tendenzialmente in crescita, la tecnologia, le tecnologie che bisogna adoperare, diciamo, sono abbastanza, sono molto sfidanti, in alcuni casi particolarmente sfidanti. E' inutile dire che, come dire, questi dei pozzi petroliferi in Artico, c'è uno solo al momento, che è russo, comporta delle sfide tecnologiche, ambientali, insomma, di grande rilevanza. Qui dico semplicemente due cose, non pretendo, come dire, di andare in questo dettaglio, esiste una categoria, diciamo, a seconda della profondità di questi pozzi di petrolio, e si parla di deep water, se sono tra i 400 e i 1500 metri, o altrimenti, come dire, ultra deep water, è evidente, lo dico banalmente, che nel momento che andiamo in profondità più profonde, sempre più profonde, abbiamo dei problemi, fosse legato solo alla pressione, per essere banali, tecnologiche estremamente più importanti. Ricorderete, per esempio, che, infatti, per questo, come dire, non c'è solo la questione della conoscenza, ma c'è anche la capacità di estrarre in profondità, sempre più grandi. Ricorderete l'incidente del Golfo del Messico, oramai, di più di dieci anni fa, ci furono tre mesi per, come dire, bloccare questa feriuscita, essenzialmente perché non c'erano tecnologiche in grado di contenere la pressione. Accanto però alla produzione, come dire, ovviamente, questo non è unicamente legato alla produzione, quindi, a mare, dei pozzi offshore, esiste ovviamente tutto un trasporto, questo trasporto è più complesso, perché naturalmente non deriva semplicemente da petrolio estratto a mare, ma anche da altre sorgenti. Naturalmente, se allarghiamo questo ragionamento, dovremmo, e qui hai messo un cenno, anche se, ripeto, poi il focus non è soprattutto su questo, ovviamente c'è anche il trasporto dei gas, ma comunque in generale, concentrandoci sul trasporto petrolifero, sul solo trasporto petrolifero, è un traffico importante da tutti i punti di vista, commerciale, geopolitico, e ovviamente anche di natura ambientale, perché chiaramente questo comporta l'uso, e come vedete qui, di petroliere estremamente grandi, e qua vediamo per esempio una classificazione, non voglio andare in troppo dettagli, ma parliamo di grandi navi, ecco tanto per essere chiari, parliamo di grandi navi che portano grandissime quantità di petrolio, per esempio, quasi, se consideriamo le VLCC, sono due milioni di barili di petrolio, e così via, da questo punto di vista diciamo, quindi abbiamo le estrazioni certamente, ma abbiamo anche delle rotte principali, come dire, più a rischio in qualche maniera, dove il traffico petrolifero è enorme, qui lo vediamo rappresentato in una maniera molto semplice, in uno studio dell'Economist, e vediamo quindi, e chiaramente questo è riportato al 2016, ma in qualche maniera esiste non solo l'estrazione, ma esiste la presenza del petrolio a mare, appunto perché è trasportato dalle petroliere. Ultima cosa per dire sempre la fotografia, da un lato a sinistra abbiamo, ancora più, se quello dell'estrazione è un dato sensibile, noi usiamo il termine classificato, quello addirittura delle potenziali riserve, o delle riserve è ancora più sensibile, però notiamo una cosa che è importante da mostrare a sinistra, che ci sono nazioni che magari in questo momento non erano nella top 3, vi ricordate erano Stati Uniti, Arabia Saudita e Russia, le prime tre che estraevano, però con tutti i limiti di queste analisi, che ripeto sono sempre un po' come dire, non totalmente trasparenti, non tutte quante le nazioni vogliono dire, però notiamo che ci sono nazioni che sicuramente hanno un potenziale estrattivo enorme, qua su tutte ne dico una, che è il Venezuela, che per ragioni economiche di crisi, diciamo là, ma ci sono anche nazioni apparentemente piccole, come gli Emirati Arabi Uniti, o la Nigeria, o la Libia, di cui non devo dire altro, come dire, sono davanti casa nostra, e così via, e ci sono anche per la verità, che anche l'Italia, per la verità se lo vedete qui, questa piccola piccola, ma insomma io mi riferisco alle nazioni più importanti, l'Algeria è prevalentemente luogo di estrazione di gas, però anche questa nazione ha delle capacità estrattive, naturalmente detto che queste notizie sono perfettibili, per definizione, per come sono fatto, noi vediamo anche che gli esportatori, quelli che come dire, producono per altri, tanto per essere chiari, straggono per altri, sono in particolare alcune, questo è molto meno, se andò da vedere, voglio far sottolineare, gli Stati Uniti, che usano le loro riserve, in maniera strategica, solo per i loro consumi, o quasi solo per i loro consumi, ripeto, vediamo qua per esempio, in questo caso, il Kazakisa, è un problema che coinvolge, tante nazioni, e alcune particolari nazioni, non voglio fare il seminario di geopolitica, ma insomma in qualche maniera, già qua si capisce, come può essere complicato, acquisire, lavorare, e come dire, trovare anche degli aspetti tecnologici e normativi, i combi divisi. Le cosiddette sette sorelle, di chi ogni tanto qua, in questi periodi, si invoca a Mattei, che effettivamente, fece una guerra commerciale, però poi, forse si dice, che sia stato ammazzato, proprio in qualche maniera, a causa di questa guerra commerciale, era le famose sette sorelle, queste compagnie, del petrolio, mettiamolo così, e sono qui riportate a sinistra, le sette sorelle, le cosiddette sette sorelle, se però andiamo a vedere la fotografia, quindi erano sostanzialmente americane, inglesi e poco più, o comunque diciamo, l'Iran all'epoca, faceva parte del mondo occidentale, se andiamo però a destra, e vediamo una fotografia, che è anche questa, non è proprio di ieri mattina, ma in qualche maniera è recente, notiamo che le nuove, fatemolo dire, sette sorelle, appartengono anche, incredibilmente, ma non incredibilmente, per chi vive questo tempo, a ben altre nazioni, naturalmente, in particolare notiamo, che ci sono due compagnie, petrolifere cinesi, ovviamente, nel quadro che abbiamo visto prima, non c'è petrolio in Cina, sostanzialmente, quindi evidentemente, operano fuori dalla Cina, non dico altro, poi ci sono due compagnie russe, e così, parlo sempre del soleo petrolio, qua faccio un commento, diciamo, che vuol dire, parto dalla seconda affermazione, che è come dire, dice, in fin dei conti, il petrolio, è un materiale organico, e quindi, non è un tanto un problema, devo dire, questa mi ricorda, effettiva, una effettiva discussione, con, un rappresentante di un consorzio, che credo che adesso non esista più, non lo so, ditemi voi, che si chiamava Castalia, però sono certo che esisteva, e che era incaricato dal governo italiano, di intervenire, nel caso di, incidente petrolifero, non entro su altri fatti, perché questo non è registrabbile, però, sicuramente, come dire, non tutte, le sostanze organiche, questo ce lo ricorda Socrate, col cianuro, sono necessariamente benevole, per la salute dell'uomo, quindi, che sia organico e vero, che sia, come dire, salutare, bere il petrolio, comunque, contaminare i mari del petrolio, diciamo, questo è da discutere, nella foto sottostante, vediamo in particolare, un recente, incidente petrolifero, che è avvenuto all'isola Mauritius, naturalmente, se uno pensa all'isola Mauritius, non pensa agli incidenti petroliferi, ma in realtà, proprio, di fronte alla barriera Corallini, è avvenuto un grande incidente, di cui ne diamo qui, alcune immagini. Mi sto portando piano piano, al ragionamento, che è come dire, se uno va a vedere, poi le statistiche, che però sono fatte, proprio dalle aziende di trasporto, dei petrolieri, notiamo che tendenzialmente, queste sono le statistiche, guardiamo che c'è un andamento decrescente, che ci vuole in questi termini, e dici, ma, come dire, ha senso, è importante, è un problema minoritario, come dire, è una cosa marginale, ci dobbiamo preoccupare veramente, dell'inquiramento a mare da petrolio, o no? Questa statistica, che arriva fino al 2016, certamente, mi dice, no, mi dice no. se uno poi si va a leggere, però, come è stata realizzata questa statistica, si rende conto, che sono stati scartati tante cose, e quindi, mi fanno un'ampia sottostima, dell'inquinamento petrolifero, d'accordo? Questo lo dico, senza annoiarvi più di tanto, e quindi, in qualche maniera, questi grafici, sono fatti ad hoc, per sottovalutare, il problema. Chi inquina, adesso andiamo, scusatemi, chi inquina, naturalmente, possono avvenire, per diverse ragioni, queste, queste forme di inquinamento a mare, perché, per esempio, come è avvenuto nel 2014, una, un gas dot, uno per, oleodotto, scusatemi, può rompersi, e questo è un caso concreto, che è avvenuto nel 2014, oppure, questo è del 2010, a cui mi riferivo prima, un incidente, diciamo, il più grande, nella storia, del, sicuramente a mare, ma, paragonabile, solamente ai bombardamenti, durante la quella di Iraq, dei pozzi petroliferi, tanto per dare una dimensione, è avvenuto, appunto, nell'aprile del 2010, giusto, ne vedremo anche, in ulteriori dettagli, perché questo ha un senso, proprio sulle potenzialità, in questo caso, evidentemente, la dimensione, della macchia di petrolio, era 200 km quadrati, quindi significa, voi siete, molti di voi, sono a Roma, io sono, in questo momento, a Napoli, significa che questo petrolio, andava da Napoli a Roma, in lungo e in largo, come si dice, e quindi, seppure fosse stato in una barchetta, certo, all'orizzonte avrei visto petrolio, questo era poco, ma non riuscivo a vedere, appunto, la fine, di questa, di questa macchia di petrolio, con tutta una serie di sbotti, aggiungo un'altra cosa, riferendomi a questo caso, che, per questo, quando vi dicevo, ci sono delle date riservate, le compagnie di petrolio, e anche di gas, per la vita, ci sono delle compagnie, cosiddette strategiche, possono, al governo americano, qua parliamo del governo americano, voglio sottolinearlo, nascondere alcune informazioni, in quanto, la conoscenza di queste informazioni, porterebbe, diciamo, al crollo in borsa, e quindi, sono protette. Perché dico questo? Perché noi abbiamo lavorato, nella fattispecie, in questo caso, e, le informazioni, pare incredibili, il governo americano, le traeva, come uno, qualsiasi povero mortale, per esempio, con le immagini satellitari. A destra, viceversa, vediamo un'altra tipologia, di tipo di inquiramento, petrolifero, che accade, spesso, soprattutto, nei nostri mari, sversamento, deliberato, di idrocarburi a mare. Questo perché avviene? Per un fatto culturale, e un fatto economico. Il fatto economico, devo dirvi la verità, se uno va a fare veramente i conti, non è così importante. Quindi, oserei dire, è più un fatto culturale, ma naturalmente, si perde meno tempo, fatemi dire così, così viene interpretato, e quindi, durante il trasporto, in qualche maniera, pulisco le sentine, pulisco delle cose, le robe varie, e butto questo petrolio a mare. Se poi, io sono sicuro, che, non c'è una sorveglianza, non c'è un sistema normativo, che in qualche maniera, mi pulisce, e qua dovremmo aprire, un ragionamento, che accenno solamente, dipende molto, da nazione a nazione, quindi, sia l'aspetto tecnico, dell'aspetto normativo, io in realtà, sono abbastanza tranquillo. Perché dico questi casi, molto differenti fra loro? Perché dire, uno può immaginare, il grande incidente, a causa della nave, l'incidente della navale, ma in realtà, esistono anche altre tipologie, che in alcune parti del mondo, per esempio, la prima, quella dei gas, dei petrolio, dei, dei, scusatemi, devo spegnere il cellulare, perché, mi stanno tempestando, non si rendono conto, che se non rispondo, non posso. per esempio, questo caso, dei petro, dei petro, vabbè, vabbè, degli oleodotti, è un caso, drammaticamente, grave, per esempio, di fronte alla Nigeria, e le compagnie, avrebbero tutta la capacità, di ripristinare, o di fare, dei oleodotti, diciamo, costruiti per bene, o fatti meglio, o manutenuti, ma purtroppo, come dire, questa cosa, per una serie di ragioni, non si fa, e non ce neanche, appunto, ripeto, qua torno a dire, ci sono delle capacità tecniche, a volte che mancano, spesso è un fatto culturale, e a volte ben altre cose, che, come dire, possiamo intuire, ma certamente, non possiamo dichiarare come scienziati. Se andiamo a vedere, solamente la fotografia negli Stati Uniti, e lo dico perché, questo è chiaro, che, come dire, parliamo di una nazione, che da tutti i punti di vista, non possiamo considerare, di secondo piano, da un punto di vista tecnologico, e comunque di attenzione, a certi problemi, notiamo, questa è la fotografia, di quello che è già avvenuto, e così capite, perché c'era anche, c'è, nonostante tutto, una grande attenzione, preoccupazione, a nuove tripellazioni, a largo della California, in realtà, qua è una fotografia, diciamo così, notiamo che ci sono stati, molti e importanti incidenti, diciamo, nelle acque, o vicino alle acque, perché poi, insomma, come dire, arriva anche là, attorno agli Stati Uniti, questo è giusto per dire, che è una statistica, del governo americano, tramite la NOA, quindi non stiamo parlando, a questo cosa dire, è un problema grave, naturalmente, come in tutte le nostre cose, non possiamo risolvere semplicemente con la tecnica, però possiamo contribuire a dare un'occhiata. In estrema sintesi, e qua vado alla fine, di questa prima parte, gli effetti negativi della presenza del petrolio a mare, come dire, non sono solo quelli a breve termine, che vediamo immediatamente, ma sono anche quelli a lungo termine, ovviamente avvengono in maniera diretta, in maniera indiretta, tramite la morte della, delle piante, della fauna e della flora, insomma, come dire, marina, ma anche nel corso degli anni, quindi in occasione di grandi incidenti, in realtà, noi abbiamo il rilascio del petrolio, anche molti anni dopo, senza andare ai troppi dettagli, diciamo, quello volatile va subito nell'atmosfera e ce lo respiriamo nelle zone prospicenti subito, quello pesante si accumula sul fondo del marino e nel tempo viene poi più a via rilasciato e quindi va a alimentare e questo dipende infatti poi dalle specie animali, perché a volte, come dire, ovviamente noi non mangiamo più il petrolio, non pensiamo che sia un vidiolicele curativo, però alcune specie, in particolare, sono grandi, come dire, assorbitori, di questi inquinanti e quindi in qualche maniera, anche anni dopo, abbiamo questi effetti. Vi accennavo di questo incidente del Golfo del Messia 2010 che dobbiamo definire gigantesco, usiamo questo termine italiano, huge in inglese, e questo perché? Perché dobbiamo fare una prima classificazione in ambito proprio dimensionale, perché qua vediamo la macchia di petrolio quanto era grande, naturalmente magari non tutti hanno la confidenza di questo, però insomma, se parliamo della Florida, la Louisiana e quasi al Texas, anzi no al Texas, scusatemi, non quasi al Texas, quindi come vi dicevo, è insomma, un gigantesco, usiamo termine. esistono però un'altra categoria, diciamo sempre quella legata magari ad altri fenomeni, come vi raccontavo prima, lo sversamento di idrocarburi a mare illegale, per esempio, che sono considerati piccoli, perché la dimensione, voglio dare un riferimento, naturalmente non è che possiamo dare un numero assoluto e costante, però certamente al di sotto dei 100 metri, e viceversa vi sono quelli usuali che come dire in qualche maniera sono più di 100 metri, ma in qualche maniera non si tratta di centinaia di chilometri e questi, adesso è chiaro che qua c'è un primo aspetto, il primo aspetto è come li possiamo osservare, perché il primo fatto è come possiamo osservare e poi come possiamo eventualmente poi contenerli, ma la prima passo è proposta in l'azione. Tristemente devo dire, perché qua chiaramente come dire, se faccio un discorso di probabilità, ma in realtà non ne ho manco faccio un discorso statistico, neanche di probabilità, questi huge oil spill per il momento per grazie di Dio sono rari, perché ce n'è stato uno solo, a questa dimensione, naturalmente con l'idea e col pensiero e con la preoccupazione che si possono fare trivellazioni in artico, scusatemi, questa preoccupazione, cioè i mari, come dire, con gli ultradip, tanto per essere chiari, con trivellazioni ancora più profonde, il rischio aumenta. Però diciamo che se vado a vedere la storia, la statistica degli huge spill è raro, perché in realtà le profondità a cui si trivellava erano profonde ma non così profonde. E quindi si considerava fino a poco tempo fa questi large, quelle di riferimento, ma se uno va a vedere alcuni ambienti, per esempio il Mediterraneo, tanto per essere chiari, uno nota che in particolare in questi large, lo dico banalmente, giusto per intenderci, sono quelle tipiche sversamenti in occasione di un incidente di una nave. Mentre gli small, appunto, sono viceversa non un incidente ma sono sversamenti deliberati, diciamo illegali. Se uno prova a vedere queste statistiche degli small, cosa che non c'era in quel diagramma che ho fatto vedere prima e che tutti presentano, in realtà sono frequenti ed in particolare in alcune zone e sono anche prevedibili perché se noi andiamo a vedere, andiamo a esaminare, abbiamo per esempio in Italia delle raffinerie nel sud della Sicilia e tipicamente avvengono diciamo lungo queste rotte. Cioè esistono come dire inevitabilmente dei luoghi privilegiati per l'attracco di queste navi e questi piccoli spill, piccoli, non piccolissimi, non zero, però nella categoria che vi ho detto dal di sotto dei cento metri, avvengono normalmente lì. Se poi come tutti i marinai sanno che di notte non c'è un servizio di osservazione, possiamo anche come dire limitare a questa osservazione nelle ore notturne. Questo purtroppo è quello che accade. Se poi facciamo il caso del Mediterraneo e perché il caso è rilevante da questo punto di vista, a parte gli effetti a lungo termine, ma faccio un discorso proprio di legislazione, notiamo che nel momento in cui per esempio la Francia rafforza la legislazione contro questi inquinamenti, questi piccoli inquinamenti, cosiddetti piccoli inquinamenti, ma ripeto, sempre c'è 800 metri, quindi proprio non proprio zero, avvengono di più nelle acque italiane. Quindi come dire, la geopolitica di cui parlavo prima c'entra anche rispetto a questo, ovvero, ma poiché lo sversamento avviene in un luogo, ma poi come dire, quei pesci, piuttosto che quelle spiagge, quel petrolio viaggio, ce lo troviamo anche sulle nostre spiagge, non è un tema da trascurare. Focalizzo sul caso del Belgio, che tra l'altro non a caso era quello che faceva vedere quell'immagine prima quando faceva i tre casi, oleodotto, incidente di Deepwater, a destra sversamento illegale. E voglio farvi notare, perché noi siamo scienziati, siamo come dire, in qualche maniera attratti dall'aspetto tecnologico, di cui vi dirò tra due secondi, però devo anche far notare che per esempio quando questa combinazione di strumenti tecnologici si combina con un legislatore attento e questa cosa diciamo cambia di molto la situazione, cambia di molto la situazione. In questo caso praticamente il Belgio certamente, dico una cosa ovvia, non è certamente se uno chiede qual è una potenza marinare o piuttosto una nazione che si affaccia sul mare e che ha un interesse di preservare i propri mari dice vabbè non mi viene in testa il Belgio. Devo però dire che con una piccola iniziativa in realtà piccola nel senso economica ma non piccola di valore con la realizzazione di uno strumento aviotrasportato in particolare un SAR a bassa risoluzione ve lo dico sta anche qua indicato in realtà sono in maniera sensibile diminuiti anche gli small anche gli small questo lo dico perché ho messo anche il riferimento potete andare a vedere il sito del ministero e quindi vedere come azioni anche a basso costo hanno un grande impatto naturalmente dietro questo c'è una tecnologia che tra due secondi vi racconto e che permette di osservarle e quindi puoi di punire ecco perché dico c'è la tecnologia ma c'è anche un sistema che magari con piccoli investimenti si autofinanzia addirittura perché devo dire la verità potrei raccontare di un'altra nazione che ha fatto una scelta navoga addirittura le multe finanziano il sistema quindi in qualche maniera come dire c'è il solito discorso giustamente della protezione civile in assoluto quella che sia la causa dice una spesa che vale la pena fare è una di quelle spese che uno come col sistema sanitario uno spera di pagare e di non usufruire mai e questa deve essere la filosofia quindi in questo caso però c'è addirittura una prima fase in cui inconsapevoli o ancora una volta come dire disattenti a questo nuovo sistema osservativo e quindi di monitoraggio e delle multe il sistema è stato finanziato nei primi anni dalle multe di quelli che sono stati beccati questo per dire che come dire addirittura dal punto di vista economico è stato rewarding oltre che dal punto di vista ambientale questo per dire che ovviamente noi speriamo tutti quelli che lavoriamo con i rischi di pagare e di non averne necessità ma purtroppo non è così la vita banalmente semplicemente perché voglio parlare a tutti e non so il vostro background e quindi faccio proprio dei richiami fondamentali andiamo a raccontare che cos'è un radar da proprio sintetico è un radar per l'appunto è un sensore alle microonde che ha diverse caratteristiche la prima caratteristica che a noi interessa è che ha una capacità di realizzare delle immagini a risoluzione molto piccola spaziale risoluzione piccola spaziale dell'ordine dei metri naturalmente se parliamo questo nel caso dei satelliti se parliamo addirittura di aerei possiamo arrivare parlo di radar semplici civili sarcivili possiamo arrivare facilmente con risoluzione addirittura delle decine di centimetri e quindi capite bene che nel quadro precedente che ho raccontato questo permette di vedere anche quelli piccoli primo aspetto secondo aspetto è in grado di osservare in maniera indipendente dalla presenza o assenza di illuminazione solare questo copre un secondo aspetto come sapete vi ho detto per una serie di ragioni che vorremmo dire che ho banalizzato nel mio racconto per una serie di ragioni questi sversi tranne quelli parlo di quelli illegali avvengono di notte e quindi è chiaro che come dire avere un sistema che è in grado di vedere delle piccole come dire in maniera fine risoluzione spaziale anche di notte diciamo essenziale di fatto di fatto il SAR è lo strumento è lo strumento principe per l'osservazione dello sversamento di idrocarbura al mare su alcuni fatti tecnici sono a disposizione per i dettagli ma insomma non vorrei per quanto ingegnere non vorrei fare come dire un tutorial sulla tecnologia SAR quello che è importante capire è come riusciamo a vederlo da questo punto di vista questo è stato un contributo importante che noi abbiamo portato devo dire è stato riconosciuto a me al mio gruppo proprio per questi studi e che qui rappresento in un'immagine molto semplice sottostante c'è un modello elettromagnetico ma io lo spiego con un disegnino se il petrolio che viene sversato è quello diciamo schifezza diciamolo così heavy dumping si dice naturalmente questo è il termine tecnico cioè sostanzialmente quello più crude oil ecco e in realtà ammazza dico tra virgolette le onde capillari cioè le onde brevi le onde centimetri e posso dire sostanzialmente disegno è bruttissimo ma rende chiaro che come dire è come dire in quella zona in cui c'è il petrolio sostanzialmente ritrovo un meccanismo di scattering e quindi di retrodiffusione che è governato dalla legge di Snell diciamolo in estrema sintesi e quindi se posto poi esattamente la legge di Snell avremmo addirittura un ritorno cioè una riflessione avviene solo nella direzione speculare ovvero perché il SAR opera in maniera monostatica cioè trasmette e riceve nella stessa direzione non ritorna nulla e quindi non solo la macchia è nera perché la macchia è nera perché non ha il ritorno viceversa dove ho il mare non coperto da petrolio il ritorno è particolarmente forte e quindi c'è un forte contrasto quindi l'idea qual è sostanzialmente è che non solo le vede in maniera fine non solo le vede dei giorni e di notte ma è in grado di discriminare a causa del meccanismo di scattering la presenza di idrocarburi a mare con il mare grazie a Dio non è inquinato andiamo a vedere qui un'immagine per la vita non è di altissima qualità ma rende bene per la complessità notiamo però che c'è una cosa che innanzitutto che al contrario di quello che si dice questo soprattutto avviene con i colleghi che lavorano col SAR con le immagini sulla terra le immagini del mare sono tutt'altro che a fondo è uniforme è tutto nero questo è semplicemente legato alla dinamica che di solito viene calibrato per quanto riguarda le zone terrestre e quindi schiaccia la variabilità sul mare questo è un primo elemento va detto perché insomma è chiaro che se come dire combino zone urbane con zone marine apparentemente il mare mi compare di un nero uniforme senza informazioni ma questo non è vero e questo è un primo elemento il secondo elemento qual è? in realtà zone scure o a basso ritorno elettromagnetico a mare sono numerose e non sono sempre grazie a Dio tra l'altro legato a inquinamento idrocarburi perché esistono una serie di fenomeni che sono il principale ovviamente è il fatto che il vento locale sia piccolo o assente e anche altri fenomeni su cui non vado a fare ulteriori dettagli che mi generano delle macchie scure e quindi quasi apre diciamo tutto il ragionamento che semplifico in prima maniera però in prima battuta è non tutte le macchie scure sono idrocarburi quindi come dire un approccio come dire da image processing che cerchi solo le immagini scure nell'immagine sare le veda come immagini usuali le trova troppe fatemelo dire per grazie a Dio nel senso moltissime sono spesso legate a basso vento e così via e questo è un primo elemento e quindi la domanda è riusciamo a fare questa ricerca del lago del pagliaio uno strumento un po' più efficace e qua la risposta è duplice l'anticipo uno è quello che vi racconto qui e l'altro è associare perché in alcuni casi la sfida è così complicata che non è così banale associare delle informazioni ancillari quello che vi sto raccontando è una storia in questo problema è che finalmente si è arrivata a una convergenza ma se andate a leggere qualche articolo di qualche anno fa non era tutto così convergente ad ogni modo non tutte le macchie scure le dark areas sono petrolio anche e qua vediamo vediamo però come dire come funziona però il mondo immaginate un corso di formazione reale ha un'agenzia spesso sono agenzie dipende dalle nazioni questo non voglio entrare in dettagli ma spesso per esempio in Francia sono degli ufficiali della marina questi ufficiali della marina sotto ufficiali della marina che operano con questo servizio perché poi farò un commento l'Europa è unita e divisa allo stesso tempo anche su Io e Spill dovrebbe essere chiaro quindi partiamo prima dalle differenze ho parlato del Belgio adesso vi parlo della Francia l'Italia non dico niente perché ognuno fa i suoi pensieri questo è letteralmente per esempio il corso di addestramento per i sotto ufficiali della marina francese che devono sovraintendere a questa osservazione sapete la Francia è organizzata anche da un punto di vista legislativo a tre procure dedicate diciamo all'inquinamento del mare lo semplifico ma comunque a tre procure quindi come dire è una nazione che è assolutamente attenta e che ha assolutamente dei dipartimenti delle strutture come dire dedicate e il corso come dire che io semplifico naturalmente non ho battuta però voglio dire è così letteralmente è così vi addestrano a vedere delle immagini e immaginare se la probabilità che quella dark areas è dovuta a un idrocarburo o meno qual è la logica sostanzialmente la logica è che chiaramente il sistema appunto deve essere sostenibile da un punto di vista economico altrimenti il politico si lamenta ed inoltre io ho risorse limitate quindi immaginiamo aereo piuttosto anche guardia costiera o Mavi per l'ustrazione ovviamente posso inviare in un luogo e non in un altro come dire devo fare sempre delle scelte quindi sono due aspetti uno di natura economica un altro fatemelo dire di efficace quindi presentandovi queste immagini e vi dico sono immagini più complicate di quelle che in realtà presentano faccio un salto in più perché come dire se mi trovassi a fare questa cosa cosa sto mostrando per chi di voi magari Sar noterà che sono immagini cosiddette speckled cioè a pienissima risoluzione non è stata fatta nessuna media e tant'è vero che vediamo quest'altissima variabilità qui ma anche qui e questo dimostra che come dire usando queste queste immagini certamente vediamo tanto dico tra virgolette a volte anche troppo o meglio troppo se non sappiamo vedere cosa cosa ci ci direbbe alla fine del corso di tante immagini viste di tante esperienze fatte che questa immagine questa macchia nera in particolare quindi questa immagine corrisponde a una macchia nera complessa formalmente si dice questo c'è un indice che misura in estrema sintesi il perimetro e l'area sono una funzione del perimetro e dell'area e dice un'immagine complessa questa immagine meno complessa diciamolo così tanto per essere chiara ad ogni modo diciamo certamente più regolare mettiamo con termini diciamo descrittivi più semplici è certamente un'immagine regolare e quindi cosa ragiono cosa dico perché regolare perché regolare sarà fatto dall'uomo e quindi se dovessi decidere di mandare il mio unico osservatore nel caso verso l'immagine A o verso l'immagine B la manderei verso l'immagine B perché essendo regolare in qualche maniera c'è la mano dell'uomo e quindi in qualche maniera è legato a un fenomeno fatemi dire antropico di inquinamento mentre nel caso 2 potrebbe essere per esempio lo dico giusto per dire un altro tipo di fenomeno che vi dà macchie scure lo sperma delle balene mi crea un effetto disorfatta che è analogo al petrolio si chiamano film biogenici in ambito europeo abbiamo anche fatto però e questo lo dico perché per dire l'Europa è unita separata diciamo abbiamo fatto anche un'agenzia dedicata che ha due come dire rani due target due obiettivi uno è l'osservazione dei inquinamenti dei recorburi l'altro per la verità è legato all'osservazione delle navi e quindi in qualche maniera è legata al non è detto così nella fatica è all'immigrazione illegale non è scritto proprio letteralmente così ma si è andato a vedere praticamente scrivono questo questa sede sta a Lisbona tutti i funzionari sono molto ben pagati abbiamo le cose però 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 credo che come dire fanno un processo che vi riassumo qui che prendono quell'immagine SAR la mediano a 100 metri per 100 metri usano praticamente delle tecniche gradienti vanno a vedere se sono e poi ad occhio perché praticamente è ad occhio decidono se si tratta di poi spillo o meno cioè letteralmente anche peggio per la vita perché qui se torno indietro qui non l'avevo mediate di quello che vi ho raccontato in qualche maniera in buona sostanza è un po' come nel calcio sarete tifoppa non è importante per il calcio lo dico come qua esperienza magari tifoso di una squadra di un'altra prendo l'esempio di una partita ultima Lecce-Milan arbitro guida se c'era il fallo dell'Eccese che poi ha segnato oppure l'espulsione di Giroud dipende dall'arbitro e da fatemi dire il par c'è una soluzione la cui qualità dipende dagli elementi soggettivi adesso detto che nella vita gli elementi soggettivi servono sempre è chiaro che come dire la storia dell'umanità ci dice che allora quando siamo passati a esami come dire visuali e quasi parapsicologici a degli esami obiettivi penso alla medicina ovviamente la certezza o comunque il rischio di errore è decisamente diminuita quindi voglio dire qua siamo ancora come dire un po' con le virtù traumaturghe e questa è l'EMSA questa è letteralmente in maniera schemata non è raccontata così ci sono molti più documenti però la sostanza è questa possiamo fare meglio? questo è il cuore del seminario la risposta è sì per verità è sì e in particolare diciamo questo lo dico con orgoglio italiano perché questo è un riconoscimento sì al mio gruppo ma è un riconoscimento che è stato anche da tante nazioni non validare non dico altro e qua dobbiamo introdurre un altro elemento la polarizzazione da un punto di vista molto banale senza pretese di fare né un corso di elettromagnetismo né altro la giacitura del campo elettromagnetico detta la polarizzazione nel caso del terriamento abbiamo usualmente nel SAR la giacitura verticale e la giacitura orizzontale e ovviamente se trasmettiamo e riceviamo in V si parla di polarizzazione in V se trasmettiamo e riceviamo in H parliamo di H se viceversa trasmettiamo in una polarizzazione e riceviamo nell'altra si parla di H a V qual è l'idea sottostante e qua si richama a quella immagine che c'era la macchia nera sopra lì io cosa ho detto passo da un meccanismo tipico di Bragg sul mare a un meccanismo che è ampiamente differente dal Bragg mettiamole in questo posso sfruttare queste informazioni posso qualche maniera quindi non guardare solo l'immagine non guardare il piano dell'immagine come ho fatto e magari ho pure mediato 100 metri ma posso guardare queste immagini come misure e quindi non guardare solo l'ampiezza ma guardare anche la fase perché è una caratteristica che io ho citato ma che come dire non ho sottolineato particolarmente perché arriva a questo punto il sistema è coerente il SAR è un radar che misura ampiezza e fase ma sta fase per esempio in questo caso la buttiamo via voi come me per la vita che ho iniziato anche con altri tipi di applicazioni tipo l'interferometria SAR o la differenziale sapete benissimo che viceversa ma potrei raccontare anche altri tipi di applicazioni che la capacità di misurare quella fase in quel caso la fase interferometrica e in questo caso la fase polarimetrica è assolutamente essenziale per vedere piccole variazioni che altrimenti occhio nudo non si vedrebbero cioè sostanzialmente cosa vi sto dicendo che se noi avessimo preso non solo quelle due immagini che ho fatto vedere ma le equivalenti in quelle rinvidi avessimo visto in H non avremmo distinto nulla e questo non ci deve meravigliare perché chi come molti di voi non so se tutti ma in qualche maniera usa una modalità diversa diciamo la modalità del ferometrio non cambia la polarizzazione ma cambia l'angolo diciamo di vista o il tempo se è differenziale e non vede ad occhio diciamo sulle immagini ampiezza differenza questa è la logica questo è quello che vi sto raccontando dico una cosa ovvia qui da questo punto di vista parto proprio diciamo dall'oceanografo da quello che fa le cose vuol dire quello che sta sul campo dice guarda il mare è pulito cioè è così poi biogenico è una piccola variazione non particolare l'aitolis si inizia a avere un effetto di dumping inizio e quando arriva il crude oil ovviamente sono molto diverso come parlo di scattering rispetto a quello che è qui presente cosa voglio dire in realtà e posso addirittura immaginare qua ripeto per brevità di seminario posso fare sia delle cose semplici in cui mi dice sì no cioè perché sostanzialmente voglio separare il crude oil dal resto perché in realtà è questo che è il mio focus oppure posso addirittura concepire una feature una misura che mi dice ma quanto sono lontano rispetto al mare così e questo mi permette per esempio di distinguerlo questo lo voglio sottolineare dai biogenic film che sono quelle macchie nere in presenza proprio di sperm weight l'ho messo così perché non potevo evitare di rimettere una formula perché se no un seminario di un ingegnere sembra brutto però diciamo facciamo delle misure polarimetiche abbiamo diversi descrittori e senza dare dettagli questi descrittori che adesso per questo sono qui semplicemente riportati ma giusto per dire che ci sono tanti articoli che lo dimostrano sono in qualche maniera relazionati alla presenza o meno per esempio qui lo vediamo tanto per essere chiari si vede poi visualmente ma al di là di tutto che come dire nel caso in cui sono nel caso di schettini tipo break ho una determinata caratteristica feature se viceversa sono in una situazione completamente diversa cioè c'è la presenza di crude oil assolutamente un'altra faccia allora vado vado al dunque perché arrivo qui ne racconto una così è chiaro perché la più semplice da spiegare è che però in nuce racconta tutte le tecniche e parlo di break break cosa mi racconta perché tutti quanti dicono torna tanto la lunghezza di risonanza di break però poi non si studia nel resto che ha scritto break ovviamente qua stiamo parlando del modello di break non più dei reticoli che noi continuiamo a chiamare in onore della microscopia a raggi X di break ma in realtà della versione che è diventata essenziale per descrivere lo schettere dal mare cosa ci racconta ci racconta che sostanzialmente il ritorno in HH e in BV cioè nelle due copole è altamente correlato non è identico ma praticamente ha la stessa funzione e quindi se vado a fare una descrizione della pdf della correlazione o della della face difference cioè la differenza di fase tra il canale HH e il canale VV io quando ho il modello di break ho una delta cioè sostanzialmente cosa significa che l'informazione che acquirisco nell'immagine HH piuttosto che quella VV è la stessa viceversa nel momento in cui come dire vado a studiare questa la face difference al variare del meccanismo di schettere in realtà questa forma questa pdf questa distribuzione della differenza di fase cambia moltissimo e posso qui inserire o una soglia e quindi avere un sì o un no o addirittura misurare questa departure questa variazione del meccanismo di schettere qua in questo caso diciamo naturalmente posso inventarmi tante cose dipende qual è la mia finalità opera su immagine alta risoluzione non ha bisogno del famoso despecning questa è una cosa fondamentale per alcune applicazioni come vi ho racionato vi faccio vedere un caso è un sensore certamente di qualità come il Radarsat 2 ma gli europei dovrebbero essere in grado di farne anche dei migliori e vi faccio vedere un caso che è come dire certificato sono quasi nei tempi in cui abbiamo diverse macchie scure queste sono tutte come dire guardate a vedere questa qua c'è un altissima la qualità è migliore dell'immagine ma sono tutte speckled come dire va bene e quindi anche questo voglio dire che spesso si fa speckle filtering noi non facciamo speckle filtering perché non vogliamo degradare la risoluzione spaziale e cosa notiamo se andiamo a fare queste varie analisi che possiamo per esempio nella prima versione di questi vari filtri che possiamo implementare in maniera che l'utente che magari è un sotto ufficiale della marina lo implementi identicamente a quelli attuali clicca e ha per esempio questa mappa qui questa mappa qui dice guarda che di queste tre sostanzialmente in questo caso è una soglia hard questa è quella più probabile che sia petrolio se però facciamo un'analisi più fine in qualche maniera e questo magari quello più addestrato può farlo possiamo anche decidere di variare la soglia piuttosto di vedere questa variabilità allora cosa diciamo che questa ha una certa probabilità io direi uno e così è di fatto e questa altrimenti cosa si tratta nella fattispecie in questo caso conosciamo tutto quindi è stato un test challenging sia per la qualità delle immagini la risoluzione e tutto quanto ma anche perché conoscevamo poi vi faccio notare anche altre cose è che qui non è un olio crudo come si dice o come dire polluting d'accordo perché è un olio di palma sostanzialmente qui c'è una mistura però con prevalente olio di palma e quindi in alcune parti dove è stato sversato vedete ancora un ritorno che come dire viene evidenziato qui viceversa è tutto come dire crudo una piccola zona ma si espande in maniera enorme non so se avete mai fatto vi invito a farlo non è inquinante prendete un bicchiere di quelli di carta di olio d'oliva e lo buttate a mare vedete che dopo poco tempo si crea una macchia gigantesca non state inquinando quindi non state facendo nessun delitto da nessun punto di vista né legale né ambientale ma capite bene che in qualche maniera queste piccole quantità in realtà si espandono in maniera gigantesca possiamo anche fare ripeto diversi parametri ma questa è la stessa logica come dire ma a parte che noi abbiamo messo il rosso in questo caso voglio anche far notare parliamo con immagine specula a piena risoluzione quindi la capacità di vedere tutta una serie di cose che come dire in qualche maniera cosa raccontano raccontano che l'osservazione banale delle nrcs delle immagini di ampiezza non rende anche potenzialmente separabili le diverse classi sono del tutto simili è chiaro che noi lo sapevamo ma voglio dire ma questo è un discorso diverso e qui sono le distribuzioni delle ampiezze anche al variare della polarizzazione ma sicuramente come dire non sono distinguibili facciano dare una cosa naturalmente che come dire hh e vv sono migliori ma questo lo sapevamo già da altri fatti hv da sola non è sufficiente e così via non voglio andare su troppa roba ma voglio andare alla risposta che ci erano posti applichiamo queste tecniche alle due nostre immagini candidate sono alta risoluzione quindi speckle e scopriamo incredibilmente che al contrario di quello che hanno insegnato in queste ore di corso in cui vi spiegano tutta questa serie di dettagli però poi alla fine sotto ufficiale viene invitato a prendere una decisione come il barista e l'arbitro avrebbe sbagliato scelta perché è vero quella a destra che è stata come dire deployed come si dice sversata dall'uomo e quindi ha una forma regolare ma è olio di palma e quindi assolutamente non è inquinante mentre in questo caso ha una forma molto più complicata e quindi si immagina che non derivi da un inquinamento questo è particolare focalizzato per alcune applicazioni ma viceversa è inquinamento voglio far notare un'altra cosa e qua faccio il focus su questa immagine così si rendiamo conto come come dire poi questa tecnologia in realtà parlo di tecnologia perché c'è il satellite che ha una modalità polarimetica ma parlo anche dei modelli perché come al solito avere una tecnologia più avanzata e non saperlo interpretare non serve a molto sto quasi finendo però voglio darvi evidente una cosa nell'immagine B in alto noi non vediamo nulla tranne che sostanzialmente un'immagine molto confusa perché come dire è affetta da speculo è quella zona scura mediamente scura il nostro occhio la integra come scura se andassimo a zoomare vedremmo di più ma non vediamo altro a valle dell'analisi polarimetrica però notiamo che si vede un punto brillante adesso qua lascio la domanda così magari che cos'è? che cos'è? non è visibile a occhio vi assicuro se prendete il dato questo è un dato SLC e lo andate a zoomare se non sapete non lo vedete vi assicuro non è solo un fatto nella qualità di JPEG e roba varie più imbrogliato ma letteralmente tra l'altro adesso questi stati all'epoca li ho comprati li ho pagati ma adesso sono dati i search chips si possono facilmente scaricare potete provare sono anche indicati quali sono quindi in qualche maniera il gioco lo potete fare a casa vi lascio la domanda e ci torniamo qual è la differenza che io in realtà ho solo raccontato rapidamente perché non volevo andare nelle cose che in qualche maniera se ho una misura quad pollo posso introdurre delle stime automatiche più efficienti mettiamola così però il cuore del tutto il cuore del tutto cioè il minimo sindacale per cui il sistema il simile sindacale che già però mi dà un risultato importante è avere le misure HH e VV capisco questo è un dual pollo HH e VV ma noi sappiamo che in qualche maniera questa è una tabella riassuntiva che normalmente non sono fatti così i sistemi SAR perché quando si parla di dual pollo si parla di dual pollo per esempio il copolare e il cross polare pensiamo a sentine l'uno non voglio fare le critiche su sentine l'uno ma insomma dovremmo aprirle ampiamente qui non c'è ma è tema di oggi proprio di oggi della collaborazione con non con l'agenzia spaziale con i servizi ambientali del Canada viceversa per usare la modalità compa-pol che praticamente è questa diciamola in qualche maniera per l'osservazione di idrocarburi a largo del Canada quindi in realtà poi la tecnologia il modello c'era che è quello che abbiamo sviluppato la tecnologia sta avanzando e quindi in realtà non è più un pio desiderio di un ricercatore che come dire per quanto vecchio è scostumato dice le cose chiare a chiunque ma è una possibilità reale operational che oggi si va a configurare ho finito naturalmente questa cosa diciamo non voglio annoiare più di tanto voglio darvi però degli spunti per dire due cose vabbè qua mi rifaccio a cose più nobili naturalmente ma quello che voglio dire è che anche rispetto all'attuale servizio che fa l'NGV ovviamente per quanto riguarda la volcanologia le deformazioni il bradesismo io sono in zona rossa ve lo dico quindi al di là dell'aspetto dell'associatura l'NGV diciamo sono interessato all'NGV non solo per rapporti scientifici amichevoli ma anche per ragioni proprio pratici in realtà esistono dei servizi tipo quello che stiamo immaginando che dovrebbero essere fatti molto meglio ma non c'è al momento purtroppo parlo dell'Italia la necessaria competenza per chi lo fa e la necessaria visibilità per chi lo sa fare non dico altro e vi ringrazio grazie grazie mille per il seminario grazie mille c'è un Salvatore Stamondo che ha alzato la mano lascio la parola a Salvatore sì grazie grazie Maurizio grazie perdona ancora non sono riuscito a a presentarti adeguatamente all'inizio seminario però l'ho seguito sostanzialmente tutto a parte i primi dieci minuti grazie anzitutto penso che sia importante diciamo vedere quello che è il lavoro che fate io lo conosco molto bene soprattutto da un punto di vista applicativo le potenzialità hai parlato dei belgi dei francesi adesso diciamo ti faccio una domanda anche dei canadesi esatto no allora ti faccio una domanda scusa una cosa quel pixel bianco era un natante era la nave era la piccola nave che sversava l'idrocarboreale lo immaginavo quindi si vedeva quindi sostanzialmente quello svelava l'arcano esattamente anche in quel caso abbiamo per esempio ovviamente una di parcio dal schetteri marino mettiamo questi quindi a dimostrazione che occhio nudo non si vedeva ma si vedeva con l'analisi polari medica veniva enfatizzata però hanno la grata sì insomma ho indovinato ma meno male comunque no volevo chiederti volevo chiederti questo allora tu sai che l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha una convenzione con il comando delle capitanerie di porto e allora ti chiedo anzitutto se tu da un punto di vista lavorativo come università hai dei rapporti con loro e in tal caso o anche se no diciamo se conosci quali sono diciamo eventualmente le modalità di azione loro e come questi sistemi che hai presentato potrebbero dare un contributo allora io non so se vogliamo continuare la registrazione ma sicuramente posso rispondere non ho difficoltà allora noi siamo un'istituzione come università in definitiva completamente diversa da un istituto dell'NGV che oramai da tempo è vero che rimane un istituto di ricerca ma strettamente come dire un legame con la protezione civile e con alcuni servizi quindi dal punto di vista personale di chiacchiere si sono dei rapporti ma capisci bene che saltare dall'universo di chiacchiere di magari qualche seminario che si è fatto poi non si è andato molto sono stati fatti anche in altri contesti ed era per questo che faccio quel riferimento finale dichiarando anche come dire un interesse culturale pratico di collaborare quindi la risposta è se vuoi no perché non voglio come dire raccontare cose operative che ci sono però sarebbe estremamente interessante lo stiamo avendo col ministero canadese senti un ultimo commento sì grazie intanto ecco questo è un tema che dovremo affrontare insieme chiaramente come istituto con le persone che poi a parte noi della come dire che ci occupiamo di sarda tempo con la parte tecnica con chi se ne occupa una domanda così un po' più generica e poi mi taccio una certa ovviamente quindi i rapporti con i canadesi ciò vuol dire Radarsat no no il ministero dell'ambiente ministero dell'ambiente ecco la mia domanda però era un po' più generale la polarimetria quindi questi ultimi dati che tu hai mostrato immagino che avrete utilizzato sicuramente le piattaforme disponibili le emissioni disponibili da un punto di vista delle performance qual è secondo te performance intese non solo da un punto di vista come dire ovviamente parliamo di polarimetria quindi tutte le emissioni polarimetiche ma al di là di questo a livello di copertura globale a livello di anche facilità di acquisire i dati di riceverli perché poi la filiera parte da qui certamente la questione devo dire la verità allora dico due tre cose in fila perché racconto per questo parlavo di avanzamento tecnologico ma allo stesso tempo di comprensione di queste misure altrimenti non come dire sono inutili noi abbiamo avuto una grande visibilità in occasione dell'incidente del Golfo del Messico del 2010 come raccontato è una macchia che come dire nelle sue dimensioni medie era di 200 km quadrati un'immagine SAR è di 30 km poco più ma insomma sto dando sempre dei riferimenti certamente non arriva a 200 km quadrati quindi un'immagine SAR di quell'incidente in realtà era nera ma non è che si distingueva non si vedevano i contorni non si potevano usare le tecniche che abbiamo raccontato diciamo quelle dell'EMSA giusto per chiarirlo e qua arrivo al punto come è avvenuto anche nella parte interferometria diciamo di terra tanto per essere chiari ovviamente noi abbiamo patrocinato e abbiamo fatto volare insieme alla NOA che ci ha chiesto un contributo gli aerei quindi io dico poi in occasione qua facciamo un discorso in generale se parliamo di protezione civile ovviamente c'è un sistema satellitare di base che sta migliorando e poi dico come e poi però ci sono dei sistemi diciamo locali diciamo regionali come dire che possono osservare da aereo è chiaro che sulla terra i tempi di evoluzione tipicamente parlo in generale naturalmente poi esistono fenomeni come i tipi di terremoti e altre cose che hanno bisogno di un rivisitare più alto però qualche maniera questo è il sistema che si delinea cosa sta avvenendo? grandi innovazioni che sono già come dire in produzione tra virgolette in lancio Radarsat se vuole non Radarsat l'agenzia spaziale canadese ha lanciato una nuova costellazione mini costellazione che ha questa modalità compa poll questa modalità compa poll che è molto criticabile per altri versi è estremamente importante sul mare perché in realtà rappresenta come dire con due soli satelliti la possibilità di fare queste misure HH e PV il dual poll che interessa in questo caso naturalmente si può anche fare il quad da poll però poi aggiungo un'altra cosa qua purtroppo c'è una pigrizia delle aziende italiane e delle istituzioni italiane ci sta tutto questo nuovo divenire anche se è difficile quindi voglio dire non è proprio una cosa domani da lanciare ma sicuramente domani da sperimentare delle modalità binforming queste modalità binforming su terra presentano complessità mostruose ma diciamo che il mare è piatto semplifico la storia così per intenderci e quindi queste modalità binforming permettono di ottenere grandi SWOT con risoluzioni e anche polarimetria cioè come dire combinare ma ottenere più informazioni lo dico banalmente di superare il limite informativo degli attuali sistemi quindi non è solo un innanzitutto quello che fa oggi l'EMSA è basato su queste cose che vi sto raccontando quindi non è che è come dire lo dico io lo dice l'EMSA il finanziamento più grande va esattamente a questo servizio quindi tanto per essere chiari migliorare il servizio che si fa poi si può migliorare ulteriormente certamente con la comprensione delle misure certamente con l'uso dei sistemi polarimedici che non si usano e in particolare parlo dalla satellite aereo ma anche come dire con i nuovi sistemi che si stanno lanciando questo per la verità è un tema che riguarda non solo il mare come tu ben sai ma riguarda per esempio tutta quella collaborazione che abbiamo fatto e stiamo portando avanti e lo dico giusto per dire perché ovviamente io qua dovevo focalizzarmi su un'applicazione ma per esempio sulla stima dei danni post terremoto e in qualche maniera quello io chiamo la scala Mercalli fatta da satellite quella ha bisogno di misure polarimetriche quindi in realtà non è un tema puramente scientifico è un tema che come dire può avere un grande impatto la risposta è sì sta evolvendo ci sono dei dati già oggi a disposizione e però voglio dire naturalmente come è caso che ho avuto con la NOA ci sono anche gli aerei per osservare delle zone diciamo limitate in occasione di un incidente per esempio grazie Maurizio inutile dirgli Italia ha un aereo di questo genere non l'ha mai usato per fare una cosa di questo genere ma ce l'ha ok allora se non ci sono altri commenti domande io ringrazio Maurizio Migliaccio per il suo seminario e intanto interrompo la registrazione e e Grazie.